Sarà Sergio Castellitto il presidente di giuria per la quindicesima edizione del festival O'Curt, la rassegna di cortometraggi che si terrà a Napoli dal 18 al 21 novembre e che quest'anno rafforza il suo spirito internazionale con lavori provenienti da tutto il mondo, proiettati in lingua originale con i sottotitoli. Il festival si svolgerà fra l'Istituto Granobl, l'Istituto Cervantes e il PAN. La grande maggioranza dei corti provengono proprio dal Medio Oriente e questo significa che c'è una grandissima vitalità culturale a fronte di quella che è una complessa o forse proprio purtroppo grazie a questa complessa e difficile situazione politica ed economica che attraversano. Hanno storie da raccontare e le sanno raccontare anche molto bene. Siamo fieri quest'anno di poter annunciare che il presidente di O'Curt, quindicesima edizione, proprio Sergio Castellitto, che interverrà nella serata di premiazione il 21. Promosso dal Comune di Napoli e organizzato dall'Associazione Taico in collaborazione con la Mediateca Comunale Santa Sofia, il festival prevede quest'anno cinque sezioni di concorso, fra cui una dedicata ai cortometraggi realizzati nelle scuole. Quest'anno il festival avrà una sezione educational costituita da nove cortometraggi, non solo italiani ma anche e soprattutto provenienti da paesi stranieri, testimonianza anche della creatività addirittura di bambini delle scuole elementari perché abbiamo anche dei cortometraggi di animazione tra l'altro realizzati da bambini delle scuole elementari. Spazi d'autore per due grandi registi del Novecento, Jean-Luc Godard e Victoria Risse, mentre una retrospettiva è dedicata ai lavori del napoletano Salvatore Piscicelli che sarà presente al festival. Egli è stato il precursore di quello che poi è stata definita la scuola cinematografica napoletana che negli anni 80 e 90 ha dato luce a tutta una serie di film molto importanti ma che hanno rappresentato la città in un modo diverso, ma il primo a farlo è stato lui. Siamo quindi orgogliosi, il Comune di Napoli tutto, di presentare la quindicesima edizione di Ocourt anche quest'anno grazie all'impegno del servizio giovane e di tutto il team dell'assessorato realizzato da una realtà giovane della città di Napoli, Taico, un'associazione che si è saputa affermare anche grazie all'ottima edizione realizzata l'anno scorso. Abbiamo un presidente di giuria che darà grandissimo lustro alla città, al lavoro dell'associazione Taico e di Ocourt e soprattutto poi la base operativa della Mediateca Civica Santa Sofia. L'Istituto Goethe presenterà al Grenoble la sorella Le Monde con una selezione di cortometraggi tedeschi. Il programma completo del festival su www.ocourt.it